Il nostro portachiburetto Il portachiburetto è molto solido nella struttura e negli snodi perché sono realizzati in alluminio e garantiscono una lunga durata e delle vatte d'assistenza. Il portachiburetto è dotato di un alleggiamento dedicato per i cavi che restano ordinatamente convogliati in un'apposita catena. Ciao a tutti dallo Star di FIMAR, ci rivediamo alla prossima!